Nasce il software vera. Ma cos'è questo software? L'Agenzia delle Entrate ha inaugurato questo software che analizzerà, secondo i dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, eventuali evasori fiscali. E ovviamente questo potrebbe attivare tutta una serie di controlli per quanto riguarda il mondo sportivo, il mondo dell'SRL, SNC, SAS, SPI, via dicendo. E sicuramente non verrà escluso il mondo del terzo settore. Pensi di questa scelta sia giusta o sbagliata? Fammi sapere nei commenti il tuo pensiero e soprattutto non dimenticarti di condividere il video e di mettere un bel like.